Conto alla rovescia per l'apertura della 53esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco al Via Domenica 28 ottobre ad Acqualagna. Il sindaco Andrea Pierotti ha presentato in Regione il ricco programma di questa nuova edizione. A partire da domenica prossima, per un totale di 7 giorni, 1, 2, 3, 4, 10 e 11 novembre, Acqualagna si apre all'Italia e al mondo e invita i visitatori italiani e stranieri ad irmeggersi in una tradizione secolare, attraverso la grande mostra a mercato, il salotto da gustare tra cooking show con chef stellati, esibizioni, sfide tra vip in cucina, spettacoli e degustazioni, e poi mostre, laboratori didattici e creativi per adulti e bambini, esperienze sensoriali, visive ed olfattive, per un totale di più di 50 appuntamenti. Il tartufo rappresenta un pezzo importante dell'economia delle aree interne, non solo i raccoglitori, che sono tantissimi, ma anche commercianti, trasformatori. Possiamo dire che ad Acqualagna è nato un distretto economico legato al tartufo. E poi il tartufo rappresenta una parte importante anche per lo sviluppo dell'economia turistica, perché il tartufo legato al territorio, al paesaggio, all'ambiente, alla cultura, è una grande opportunità per scoprire il territorio e per degustare un prodotto che è un'eccellenza della nostra terra. E quindi la 53esima fiera del tartufo di Acqualagna rappresenta un momento importante di promozione, ma anche per l'economia. Vi va ricordato che il 2018 è stato dichiarato l'anno del cibo italiano, quindi il cibo, la gastronomia, l'eno gastronomia e il turismo è un asset che funziona e che traina. E poi possiamo dire che le marche, oltre a Raffaello, Rossini, Leopardi ed altri importanti personaggi, possono offreggiarsi del re della cucina. E questo binomio di cibo e di cultura sono sicuramente una carta vincente per tutta la regione. La fiera di Acqualagna è una grande contenitore per turisti che vogliono vivere un'esperienza unica ed indimenticabile. ed è rivolta a tutto il pubblico, famiglie e bambini. Informazioni complete sul programma di questa edizione 2018